Grazie a tutti Allora, tanto benvenuta di nuovo, sei la nostra madrina 2014 e comunque segna già con la tua presenza un evento importante, vuoi dirci, raccontarci qualcosa che ha segnato la tua vita in questo percorso che poi per molti può essere anche perché no, una sfilata, una passerella ma poi è più forte, più dentro, che cosa c'è? Alla fine le storie sono tutte uguali, un passato che a 13 anni sono andata via di casa, anzi sono stata cacciata, però poi mia mamma si è rassegnata, delle storie che vanno a lungo e poi finiscono male, però piene di soddisfazioni. Che cosa potresti dire tu a una ragazza che si appresta oggi a fare un percorso e che probabilmente forse è un po' più fortunata rispetto a quella che è stata la tua esperienza? L'esperienza a 13 anni non è così semplice decidere poi tutto, chi è che ti ha dato una mano? Chi ha potuto capire a 13 anni che cosa tu volevi? Penso poche persone, però adesso comunque ci siamo emancipati un po', le ragazze di oggi andano un pochino più avanti di noi, che le posso dire? Di stringere i denti a tutte quante e di andare avanti? Perché adesso ci hanno un pochino più possibilità di noi rispetto ai tempi nostri.